Ecco, quell'auto lì è di un mio amico Daniele Turrisi e domani ovviamente sarà presente alla fiera di auto moto d'epoca di Padova. Io non sono mai andata e domani sarà la mia prima volta e sono molto contenta perché chiaramente il mondo del classico è molto lontano dal mio, però insomma sono curiosa di scoprirlo di più e credo che questa fiera sia il posto perfetto per iniziare. E niente, vi aspetto tutti lì, io sarò insieme a Daniele nel padiglione 5B e vi aspetto tutti, chiaramente in sicurezza, mascherati, distanziati, però almeno ci vediamo delle belle auto e moto. E ovviamente gli ingressi sono contingentati, contatti, numerati, vabbè, avete capito. E quindi vi consiglio di prendere il biglietto online così siete sicuri che potete entrare. A domani!